In questo appuntamento con Unicam News ha ancora un successo per le immatricolazioni all'Università di Camerino. Anche Unicam usa Spray, l'app che ti permette di comunicare con la tua università. Ad Unicam dibattito sul terrorismo, 11 settembre 2001, 13 novembre 2015, le date del terrorismo fondamentalista islamico. Francesco Petretti ad Unicam presenterà i suoi videodocumentari dedicati alla flora e alla fauna d'Italia. Ben ritrovati a questo nuovo appuntamento con Unicam News. Abbiamo sentito i titoli, allora partiamo subito con il primo servizio. Lo scorso 5 novembre si sono chiuse le iscrizioni e rispetto allo scorso anno accademico, i nuovi iscritti ai corsi di laurea e laurea magistrale offerti da Unicam hanno fatto registrare un eccellente più 7%. I dati relativi alle immatricolazioni per l'anno accademico 2015-2016, ha sottolineato con soddisfazione il rettore Flavio Corradini, sono ancora una volta la dimostrazione che l'Ateneo è in costante crescita. Sono una testimonianza dell'apprezzamento nei confronti della qualità della nostra offerta formativa e dei servizi che mettiamo a disposizione dei nostri studenti, certificati ormai da diversi anni, non solo secondo le norme ISO 9001-2008, ma anche da autorevoli classifiche, quali quelle del Censis, che ci vedono al primo posto ormai da 12 anni consecutivi tra gli Atenei di pari dimensioni e quest'anno terzi tra tutti gli Atenei italiani. Unicam ha con determinazione, prosegue il rettore, scelto di investire sul futuro i nostri giovani, proponendo un'offerta formativa moderna, frutto di confronti con il mondo produttivo e imprenditoriale, in linea con quello che il mercato del lavoro nazionale ed internazionale richiede. Tutte le scuole dell'Università di Camerino fanno quindi registrare un trend positivo di immatricolati rispetto allo scorso anno, con performance particolarmente positive per i corsi di laurea in farmacia, chimiche, tecnologie, farmaceutiche, informatica, matematica, biologia, fisica, design industriale e ambientale. Unicam dunque si conferma un ottimo Ateneo da scegliere per la propria formazione universitaria. Che cos'è Spray? Un'applicazione sia per Android che per App Store, molto simile al famosissimo WhatsApp, che riesce a mettere in contatto persone che si trovano in un raggio di 15 chilometri e permette tra le tante cose di inserire file in PDF. Un nuovo canale di comunicazione che l'Università di Camerino vuole usare per poter comunicare con i propri studenti per promuovere iniziative e per immiare in modo veloce delle informative. Questa applicazione si caratterizza per essere l'app che mette in contatto una comunità geografica e dà informazioni a tutti gli utenti che si trovano in una determinata località. Spray è sempre immiato da una persona reale, infatti, basta effettuare il login con Facebook, Twitter o il numero di telefono e scegliere dove voler attivare la conversazione con le persone che sono nelle vicinanze. Unicam da anni si sta caratterizzando per la comunicazione nel mondo dei social network, aprendo profili istituzionali nei principali social, riuscendo a raggiungere un pubblico sempre più ampio. Oltre 5.000 fan per la pagina Unicam Università di Camerino su Facebook, oltre 800 follower per l'account chiocciola Unicam UF stampa su Twitter, 50.000 visualizzazioni per i video del canale YouTube slash Video Unicam ed oltre 700 seguaci per il profilo Università Camerino di Instagram. Si è svolto nei giorni scorsi presso la Scuola di Giurisprudenza di Unicam in collaborazione con il Comune e i Licei di Camerino un interessante incontro su terrorismo e migranti. Dal titolo 11 settembre 2001, 13 novembre 2015, le date del terrorismo fondamentalista islamico, terza guerra mondiale o primo conflitto globale. Dopo i saluti delle autorità, i relatori si sono confrontati sul tema i valori civili non sono stati battuti e la geopolitica europea si è rafforzata con interventi su difesa, sicurezza ed economia, strategie geopolitiche dell'Occidente e dei suoi nuovi alleati per contrastare il terrorismo, la gestione dei flussi migratori per contrastare il terrorismo, inefficienze e interessi politici. Infine, sono stati analizzati gli ultimi tragici episodi di matrice terroristica con l'intervento Cosa pensano i migranti di noi? I recenti tragici episodi di matrice terroristica agli occhi dei migranti. Si terrà il prossimo 21 gennaio presso l'Aula San Sebastiano del Polo Museale di Unicam la presentazione dei videodocumentari di Francesco Petretti dedicati alla flora e alla fauna d'Italia. Lo stesso autore illustrerà, arricchendoli di dettagli e di curiosità al pubblico, i suoi documentari. Petretti, volto noto della televisione italiana in particolare grazie alla trasmissione Geo in Geo, è biologo ed ornitologo e da anni collabora con l'Università di Camerino sui temi della natura e della divulgazione scientifica. È membro del Comitato Scientifico del WWF e ha diretto i programmi per la biodiversità della stessa associazione, occupandosi di tutela delle risorse naturale e di specie minacciate. Ha curato la redazione del libro Rosso delle piante d'Italia e degli animali d'Italia e si dedica da anni allo studio delle ecologie e del comportamento degli uccelli rapaci e delle otarde. Bene, con questo è tutto, l'appuntamento con Unicam News termina a qui, ma vi ricordo che torneremo mercoledì prossimo alla stessa ora. Intanto potete trovare tutte le informazioni sull'Università di Camerino nel sito www.unicam.it. Grazie per l'attenzione e buona serata. Grazie per l'attenzione e buona serata.